Una trama cinematografica, quella tessuta nelle 33 pagine di accuse redatte dall'ordinanza del GIP Paolo Di Geronimo, un disoccupato di 54 anni di Ortona che si spaccia per il rettore dell'Università di Chieti, Carmine Dilio, una segretaria particolare che invece era la nipote del finto rettore impegnata ad ideare tutte le attività illecite e poi la madre della finta segretaria, 55enne, impiegata all'ASL, che si occupava di procacciare vittime, tutte persone conosciute e quindi più inclini a credere alle promesse. Tra i posti di lavoro promessi, quelli da impiegata di segreteria, centralinista, portaborse, autista, è sorpresa anche un posto in Vaticano, mediante l'intercessione di un cardinale che si sarebbe prodigato per la modica cifra di 5.000 euro. Tra gli arrestati nell'inchiesta Ghost Work, anche l'ex direttore amministrativo dell'ASL ortonese Luciano Di Odoardo, 69enne, attualmente impegnato nel ruolo di direttore amministrativo dell'ARTA, considerato braccio destro del direttore generale Mario Amicone e, notizia delle ultime ore, sospeso dal suo incarico proprio dall'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente, con effetto da lunedì mattina. Secondo le dichiarazioni ricevute dal GIP, si sottolina nella relazione che proprio di Odoardo rassicurava le vittime sfruttando il prestigio della carica pubblica ricoperta, che gli avrebbe dato più credibilità, assicurando anche le vittime che, se l'intermediazione non avesse portato all'assunzione promessa, egli avrebbe provveduto alla restituzione delle somme versate. Lunedì sono previsti gli interrogatori per i 5 arrestati. Lunedì sono previsti gli interrogatori per i 5 arrestati.